Cuneo, giorno di presentazioni per il Cuneo Grandavolli, siamo in compagnia di Francesca Bosi, nuova palleggiatrice della formazione Biancorossa. Allora, innanzitutto le prime sensazioni e insomma cosa ti aspetti da questa stagione con Cuneo che sicuramente è importante per la tua carriera? Le sensazioni sono sicuramente positive, qua si vede che c'è un grande entusiasmo e tanta voglia di fare. Bene, da questa stagione mi aspetto che sarà parecchio tosta, ma so che noi potremo dire la nostra, dovremo lavorare tanto, però penso che potremo toglierci grandi soddisfazioni. Ecco, cosa significa per te arrivare in una piazza come Cuneo che ha grande tradizione pallavolistica? È vero che Cuneo femminile è una neopromossa in A1, però insomma qui la voglia di pallavolo è veramente tanta, e c'è tanta voglia di insomma raggiungere obiettivi importanti. Certo, per me è un onore veramente essere qui, come ho detto appunto è un ambiente, penso sia l'ambiente perfetto per lavorare, per fare bene, perché appunto c'è entusiasmo da parte di tutti, anche Cuneo è famosa per i seguiti di suosi che ha, quindi non vedo l'ora di iniziare e di conoscere tutti. Per quanto riguarda la trattativa che ti ha portato qui, beh innanzitutto chi ti ha contattato e come si è svolta, nel senso qual è il progetto che Cuneo ti ha esposto per questa stagione? Ma allora sono stata contattata da Andrea Pistola, il progetto è quello che siamo una squadra abbastanza giovane con qualche giocatrice più esperta, e l'obiettivo principale sarà sicuramente la salvezza, tutto quello che viene in più andrà benissimo. Ultima cosa su questo campionato, per quello che ovviamente si può capire adesso che siamo ancora di estate, che campionato sarà per Cuneo? Perché sicuramente non mancheranno anche i momenti difficili, però insomma stimoli e anche responsabilità allo stesso tempo. Penso che sarà quest'anno un campionato molto tosto perché soprattutto le prime 3-4 squadre della classifica si sono rafforzate molto, quindi per noi ogni tanto sarà più dura, ma penso che sarà anche una gran cosa giocare contro i giocatrici di un certo livello e che sicuramente ci aiuterà per quando giocheremo con le squadre più alla nostra portata. Grazie e benvenuta. Grazie. Grazie.